Gli sviluppi sono questi, dopo una lunga trattata durata a tre giorni, alle 9 della sera siamo riusciti finalmente a rincontrare la proprietà, il quale ci ha garantito che nei prossimi giorni se fossero ripartite le lavorazioni e le produzioni, tutti i lavoratori venivano mantenuti all'interno dell'attività lavorativa e quindi con continuazione del rapporto di lavoro e ci sarebbe stato un innesto di liquidità per proseguire l'attività aziendale, quindi questa è la vera novità che porta, non dico alla piena risoluzione, ma comunque a incanalare verso una risoluzione molto positiva della situazione lavorativa della MET. Quindi la prospettiva della mobilità al momento non c'è, non c'è più? Al momento non abbiamo prospettive di licenziamento, quindi noi siamo molto soddisfatti per il percorso intrapreso e la soddisfazione di vedere il sorriso negli occhi delle persone coinvolte da questa situazione professionalmente è stata una cosa molto molto bella da raccontare.